I comuni diano identità e dignità ai barboni in città. Questo è il contenuto della circolare messa dal prefetto di Avellino Maria Tirone, diretta a tutti i sindaci Irpini, alla Caritas e alle Diocesi, da senza dimora a casa comunale. E senza tetto va garantita la residenza nel comune dove sono stati monitorati. Una norma già esistente ma evidentemente mai applicata. L'intervento del prefetto avviene a margine della settimana mondiale della povertà a circa un anno dalla morte di Angelo Lanzaro nel gelo del mercatone. È cambiato qualcosa, visto che è trascusso un anno? È cambiato perché il nuovo prefetto ha posto un'attenzione su questa emergenza del freddo. Ha fatto già un paio di tavoli. C'era la Caritas, c'è il comune di Avellino. Il prefetto ha chiesto di porre al breve quello che è un progetto di accoglienza. Chiaramente si è reso conto, insomma, noi abbiamo detto che la Caritas è disponibile, però se il dormitorio è pieno come si fa? Allora bisogna ricercare altri posti. In questo il comune è breve, farà sapere quali sono le altre possibilità dove poter alloccare. C'è Rubilli che in parte a Sant'Ommaso è vuoto, potrebbe essere quella una scelta, ma persone per strada non ce ne devono essere più. Chiaramente le persone non vanno solo allocate, ma vanno seguite, perché poi chi è per strada ha delle difficoltà e non gli serve solo il letto o il piatto caldo, ma c'è bisogno soprattutto di chi ne ha cura. Si è parlato anche di la residenza, perché i barboni hanno diritto a una residenza. E quindi il prefetto ha mandato una circolare a tutti i sindaci, in cui ha detto, nel caso nel vostro comune c'è la presenza di un barbono, la residenza è presso il comune. Perché? Comunque gli va data un'identità a questa persona. Allora sta cambiando qualcosa. Chiaramente adesso ci si mette al lavoro per far sì che il prossimo inverno nessuno resti per strada, nessuno resti confinato in chissà quale scantinato. Noi cercheremo di fare la nostra parte, pensando anche a un'unità mobile che giri. Vediamo. Però chiaramente noi abbiamo il volontariato che è impegnato. Allora possiamo far sì che il volontariato, supportato da operatori che sono già parte di un contesto istituzionale, dell'ASL, dell'ospedale, del comune, della provincia. Insomma, si faccia questo piano in cui l'attenzione è prioritaria verso queste persone. che adesso parliamo di barboni perché è emergenza fredda, ma io penso, come dicevo prima, agli anziani che sono spesso soli, a persone con disabilità grave che non sanno chissà dove stanno. Allora fare un monitoraggio forse potrebbe aiutarci a capire chi vive in questa grande famiglia.